Siamo pronti, no? Sì? Te lo spiego io il perché. Non ti piace il dito Marco? Ovviamente poi risuccede tutti i colori. Ho messo usci bene la prima dici tu. Quello che vedi? No. No Marco, fermate, fermate. Circa dieci milioni di anni fa. No, no, ripartiamo subito. La, le, le, no. Non so divertiti. No Marco. No, no, di più, dai, salta di più. Dai, buona. Il lago di Paola è questo. Ok, ok, ci siamo. Il lago di Paola. E... Dai, gain, gain, gain. Non va così, eh? Batti la mano. Non aspetta. Jack 127. No, aspetta. Vai. Action.